Caro, dico proprio a te caro, buongiorno, ho dormito bene? C'è un messaggio per te da parte di Abu. Ho pagato il conto, era il minimo che potevo fare dopo quello che hai fatto tu per me. Abu, e non ti fermi a colazione? E' inclusa nel prezzo, sai? No, devo andare. Mi chiama un taxi per favore? Ma certo caro, per gli amici di Abu questo ed altro. Pronto Tel Marghera? Sì, un taxi urgentemente.